ben tornati nel podcast di educazione alimentare sono il dottor lore tonemi dietista e nutrizionista oggi voglio parlarvi della dieta plant based negli ultimi anni è stato coniato questo nuovo termine che un po una evoluzione della dieta vegana se ci pensi bene non è non c'è una correlazione diretta tra mangiare vegano e mangiare sano perché andando appunto a fare una riflessione ci sono tanti cibi vegani che possono essere non sani se ci pensi la coca cola vegan la pizza surgelata ma anche le patatine fritte o addirittura molti snack che rientrano nella categoria junk food e quindi diciamo basare la nostra alimentazione su cibi vegetali poco manipolati e senza eccessive aggiunte fatte dall'industria alimentare è fondamentale sicuramente per coloro che vogliono mangiare anche vegano dovrebbero fare questa sorta di upgrade quest'ultima considerazione l'ho potuta appurare proprio con i miei occhi e con le mie orecchie durante le mie visite ho avuto molti pazienti vegani che mangiavano male che mangiavano solo pane e pizza e addirittura poca verdura e magari niente legumi per fortuna rispetto allo stile vegano in voga una decina di anni fa negli ultimi anni ha preso vita uno stile di dieta più elastico meno irrigitito sull'origine biologica del cibo e più concentrato sul concetto di genuinità infatti la dieta plant based è in cima alle linee guida e raccomandazioni alimentari per una corretta nutrizione e per la prevenzione di diverse malattie legate a quello che mangiamo la dieta plant based comprende tutti i tipi di frutta verdura cera integrali legumi noci e semi erbe e spezie minimamente lavorati ed esclude tutti i prodotti di origine animale inclusi carne rossa pollame e pesce uova e latticini ma attenzione sulla definizione precisa di cosa possa essere out e in nella dieta plant based ancora ci sono dei dubbi infatti uno degli istituti più autorevoli al mondo in ambito nutrizionale la harvard school of public health ha compreso nel suo plant based meal oltre a tutte le fonti vegetali anche alimenti proteici di origine animali anche la british dietetics association l'associazione di dietisti professionisti della nutrizione più grande del regno unito non esclude categoricamente i cibi di origine animale dalla definizione di pie di dieta plant based a questo punto qual è la definizione corretta ammesso che esista una definizione più corretta dell'altra la mia risposta è sempre solo nell'equilibrio giusto fra gli abbinamenti e la genuinità degli ingredienti del resto nel campo della salute dell'alimentazione ciò che conta è seguire sempre il corretto equilibrio tra tutti i macronutrienti e micronutrienti mirando alla scelta consapevole di ciò che si mette sul tavolo la mia dieta che propongo ai pazienti non ha un'etichetta e non seguo un'unica filosofia alimentare cerco di essere sempre aggiornato sui nuovi stili sia per il mio lavoro di dietista e nutrizionista che per la mia salute ogni volta che faccio la spesa la faccio con la consapevolezza delle mie scelte fare una spesa consapevole scegliendo alimenti prodotti dall'elvamento agricoltura biologica e a chilometro zero vuol dire mangiare sano pensando alla propria salute e a quello dell'intero è la salute dell'intero pianeta ecco perché mangia sano è il mio hashtag preferito e l'unica credenza che seguo in questo campo è il pieno rispetto dei terreni e del lavoro dei contatini quindi la dieta plant based porta con sé diciamo la consapevolezza di scegliere alimenti poco manipolati assolutamente freschi senza eccessive aggiunte di conservanti additivi scegliendo alimenti così come si trovano in natura quindi è chiaro che vi faccio un esempio possiamo comprare della verdura fresca ma possiamo comprare anche della verdura surgelata e all'interno della verdura surgelata magari spesso ci sono delle buste di verdura che vengono mixate con non so formaggi o spezie conservanti ma anche zuccheri per la conservazione quindi chiaramente questa seconda scelta non è non è più sana anche nella scelta di alimenti magari pronti è importante saper leggere sempre le etichette nutrizionali per vedere per verificare cosa cosa è presente e scegliere comunque un alimento sano e poco poco manipolato poco processato con pochissimi diciamo altri ingredienti bene per oggi ho concluso se volete creare un piano nutrizionale personalizzato per la vostra costituzione per stare bene o per migliorare la salute e perdere peso contattatemi potete visitare anche il mio blog www.mangiasano.me e chiedere una delle informazioni per una visita personalizzata a presto mangiassano podcast a cura del dottor loreto nemi